Mi ha spinto comunque una società ambiziosa, sana, con un direttore che sa di calcio, conosce bene il calcio. Credo che il Frocinone sia il posto giusto per continuare a crescere, per continuare ad apprendere. Importante per me mettere dentro minuti per contribuire ad un processo di crescita della squadra e personale. Spero di dare il massimo per raggiungere i nostri obiettivi. Sicuramente sono maturato tantissimo, anche perché poi con gli anni uno ha un bagaglio di esperienze in più e quindi queste esperienze ti aiutano a gestire meglio le situazioni. Portandomi dietro tutte queste esperienze, arrivo qua a Frocinone con una voglia e una carica mai avute prima, anche perché giochiamo nella massima serie e darò il massimo per raggiungere il risultato di squadra. Con la Juve ho giocato da mezz'ala, però ora ogni giorno mi sento più a mio agio a giocare da play davanti alla difesa. Nasco attaccante, prima punta così, però nel momento del bisogno, quando il mister mi chiede se posso giocare esterno, fare un aiuto alla squadra, sicuramente darò la mia disponibilità in qualsiasi ruolo, in qualsiasi parte del campo. La mia caratteristica principale potrebbe essere l'attacco della profondità e quindi l'attacco veloce e forza fisica. Quello che posso migliorare è la finalizzazione, migliorare nel finalizzare per poi cercare di arrivare la domenica e quando si trova lì fare sempre gol. Credo che quello che mi identifichi meglio è il gioco aereo e un buon passo in mezzo al campo. Devo migliorare invece nel ritmo di gioco. La mia filosofia è quella di pensare giorno per giorno, lavorare al massimo ogni allenamento per poi arrivare alla partita e dare il massimo e poi dimostrare quello che è il mio valore nel migliore dei modi. Mi porto l'esperienza bellissima e formativa di essermi allenato con grandi campioni. Credo di aver sfruttato al massimo il fatto di aver condiviso con loro lo stesso spogliatoio per diverso tempo. Per me un bagaglio importante per la crescita generale. Con Federico Gatti non ho parlato del Frosinone e non ho avuto modo di farlo neanche da quando sono arrivato qui. Posso dire con certezza che quanto lui mostra in campo, e mi riferisco alla grinta e alla cattiveria agonistica, è tutto figlio dell'esperienza che ha vissuto qui a Frosinone. Vedendo anche la partita che è stata con il Napoli, ho visto come lavorato Cuni e poi Borrelli. Ho intravisto quello che chiedeva il mister e penso proprio che mi sposerò nel migliore dei modi, nelle richieste e nel modo di giocare.